Io credo che la parola chiave di ora nell'industria del fashion sia quella della inclusione, di far sentire chi entra in contatto con le nostre aziende, con i nostri marchi come parte del nostro progetto. È quindi fondamentale avere dei brebbelli uschiari in maniera da poter condividere il progetto dell'azienda con tutti gli stakeholder. Di Adora nella sostenibilità lavora in tre ambiti, nel controllo delle supply chain, certificate in ambito sostenibilità, nell'introduzione di prodotti e di materiali sostenibili nelle proprie collezioni e nello svolgimento di attività nel mondo corporate nell'ambito della sostenibilità, rendendo Di Adora un posto migliore per lavorare e collaborando con enti esterni per migliorare l'impatto che Di Adora nel mondo. Nella digitalizzazione è appena iniziato il nostro nuovo progetto di e-commerce interamente in house con una piattaforma gestita da noi e stiamo digitalizzando vari processi aziendali.